Dibattito sulla campagna vaccinale in Toscana a seguito di un'interrogazione presentata dal consigliere forzista Marco Stella, confermata la partenza della nuova fase per gli ultra ottantenni la prossima settimana. Terza corsia, bando da rifare, polemica dopo lo stop della procedura di gara per l'allargamento dell'autostrada a 11. Il bilancio della commissione pari opportunità alla scadenza del mandato, parla la presidente uscente Rosanna Pugnalini. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio, parliamo dell'attività del Consiglio regionale della Toscana. La campagna vaccinale nella nostra regione è stata l'oggetto di quattro interrogazioni presentate dal consigliere di Forza Italia Marco Stella nel corso dell'ultima seduta. In aula a rispondere c'era l'assessore alla sanità Bezzini che ha confermato per la prossima settimana la partenza della nuova fase delle vaccinazioni per gli ultra ottantenni. Bezzini ha aggiunto che la regione sta proseguendo con le vaccinazioni in modo intenso ma ha anche ammesso che le forniture sono ancora limitate. Sentiamo le interviste ad iniziare dal presidente della regione Eugenio Gianni e poi il proponente delle interrogazioni Marco Stella di Forza Italia. In questo momento quindi la Toscana sta sviluppando tre linee di vaccinazioni. Con Pfizer e Moderna la vaccinazione è in corso per quanto riguarda il personale sanitario e gli anziani dell'RSA e siamo arrivati a circa 160.000 dosi somministrate. La seconda linea sarà quella che attraverso i medici di famiglia ci vedrà somministrare attraverso gli ambulatori e la decisiva collaborazione con i medici di famiglia dei farmacisti. Quelle che sono ulteriori dosi di vaccini Pfizer e Moderna e la terza linea di vaccinazione è quella che arrivando oggi i vaccini da giovedì sera potremo attivare per gli insegnanti e le altre categorie previste. Io spero che possiamo arrivare presto ad avere dosi di vaccino che siano pari alla nostra capacità di somministrare, alla macchina organizzativa perché io ho bisogno di sentire che arrivino dosi sufficienti a creare progressivamente una immunità di gregge che possa metterci a riparo e costituire la barrera per quella che è la pandemia. Naturalmente l'organizzazione nostra c'è e dimostra i suoi risultati. Tutto sta nell'avere le dosi di vaccino. Guardi noi oggi abbiamo presentato come il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale ben cinque interrogazioni sul piano vaccinale. Non siamo assolutamente contenti della risposta, lo abbiamo detto in maniera molto chiara in aula perché ci sono ancora tantissime lacune sul piano vaccinale. La prima è che i vaccini sono troppo pochi per le esigenze dell'Italia e in particolare della nostra regione. La seconda è che c'è tantissima confusione su chi si potrà vaccinare perché si possono vaccinare le forze dell'ordine e i servizi essenziali. Quali sono i servizi essenziali? I servizi essenziali sono i guidatori per esempio del trasporto pubblico? Punto interrogativo. Ancora le linee guida non ci sono e poi esiste una fascia che è una fascia assolutamente scoperta perché il vaccino si fa fino ai 55 anni e poi che cosa succede? Quindi c'è una fascia che è assolutamente scoperta, le dosi sono troppo poche, i centri non si sa ancora quali sono, i medici di base dovranno chiamare gli ultraottantenni ma ci domandiamo come faranno a chiamarli, dove si vaccineranno gli ultraottantenni, cioè gli interrogativi sono ancora troppi, le speranze sono ancora disattese e gli italiani e i toscani che aspettano un vaccino sono ancora esageratamente troppi per dare una risposta efficace all'emergenza sanitaria e soprattutto perché se non vacciniamo in maniera veloce e rapida gli italiani non si potrà contrastare e dare una risposta seria alla crisi economica che in questo momento ci preoccupa tantissimo. L'unica scelta che è quella che sta facendo la Giunta è quella di destinare i vaccini che si possono usare per gli ultraottantenni per quella fascia di popolazione e quindi destinare fin da subito il più possibile Pfizer e Moderna alla popolazione anziana. Questo ovviamente è chiaro ritarderà i tempi che ci eravamo immaginati nella vaccinazione degli ultraottantenni però siamo fiduciosi del fatto che una volta chiuse le vaccinazioni sanitarie si possa incrementare in maniera veloce e poi abbiamo visto che da una settimana all'altra cambiano le notizie e anche le quantità e sappiamo che ci sono anche altri vaccini che sono in procinto di arrivare quindi diciamo intanto concentriamoci perché tutte le dosi che arrivano siano impiegate in maniera ottimale per i cittadini più critici e su questo poi ovviamente il dato di AstraZeneca noi speriamo anche che nelle prossime settimane possa essere superato perché sappiamo che per ora c'è una carenza di indagine non un'indagine che dice che non si può usare sugli ultra 55 anni e speriamo che anche questo sia colmata nelle prossime settimane. Quando arrivano i vaccini sono sempre grandi opportunità lo sono a vantaggio delle persone che hanno più di 80 anni e ringraziamo fin d'ora i medici di famiglia per l'operazione che faranno lo sono per tutte le persone che hanno bisogno di essere vaccinati soprattutto per le categorie che sono più esposte a me ha fatto molto piacere vedere che siano gli insegnanti per esempio una di quelle categorie che prima di altri verrà vaccinata e come questo ogni altra forza tutte le forze dell'ordine tutte le persone che sono esposte sia del sistema sanitario che socio sanitario e tante altre persone che beneficeranno dei vaccini. Non ci dimentichiamo che la pandemia è iniziata un anno fa e prima di un anno sono arrivati i vaccini è un evento straordinario quindi non stiamo lì a guardare se una settimana prima o una settimana dopo è un evento che era imprevedibile per quanto riguarda la dinamica della scienza quindi portiamo rispetto a chi dovrà organizzare la campagna di vaccinazione augurandosi ovviamente che possa essere fatta in maniera più celere possibile. Io credo che sarà è un po' ottimistica pensare che prossima settimana si inizia la seconda fase perché ci abbiamo ancora da finire la prima noi i dentisti per entrare nello specifico mio hanno da oggi iniziano a poter prenotare per cui io stesso sarò la prossima settimana quindi credo anzi la settimana ancora dopo quindi credo che non ce la faremo la tempistica secondo me è del tutto falsata perché fino a che non ci saranno i medici di famiglia che potranno incominciare a vaccinare credo che i tempi saranno ridotti e i numeri saranno quelli che sono cioè minimi. Non solo ma c'è anche un certo pressappochismo nella idea di come procedere nella vaccinazione perché i medici di famiglia mi hanno appena detto non più tardi di ieri che non sanno come procedere e addirittura sembrerebbe che i vaccini a loro destinati per la vaccinazione degli over 80 siano della Pfizer quindi i più difficili da maneggiare poiché hanno ovviamente la necessità di stare a meno 80. Credo che quindi i tempi si allungheranno, è ottimistico pensare a una seconda fase di inizio della prossima settimana credo che l'importante sia ancora mantenere un assoluto distanziamento, il gel, la mascherina e sperare che si possa quanto prima ottemperare a quanto tutti auspichiamo. Naturalmente tutto finalizzato all'immunità di gregge. Io insisto che questo piano vaccinale così come è stato declinato dalla regione toscana ha molta confusione in sé ci sono stati dei problemi in diverse province e non soltanto legati alla fornitura della Pfizer che è stata rallentata pure anche lì poteva essere trovato un sistema, un rimedio producendoli in proprio grazie all'articolo 31 come la mozione che avevamo presentato ma di fatto nessuno ha voluto discuterla. La verità è che adesso continuiamo ad andare abbastanza alla cieca con molto disordine e non vedo questa giunta attenta e soprattutto non la vedo in grado di risolvere i problemi. Ci sono sicuramente delle persone che hanno necessità in questo momento di essere urgentemente vaccinate ma non le vedo mettere nell'ordine delle priorità. Ci sono anche molte segnalazioni preoccupanti riguardo l'utilizzo dei vaccini. Pensiamo a quelli che hanno ricevuto la dose, delle dosi che dovranno essere per sei persone, sei vaccini e invece sono diventate sette. Qui ci sono delle domande importanti da fare non solo alla giunta ma anche a tutto il sistema sanitario che lo sta organizzando. Cambiamo argomento, parliamo di mobilità da rifare il bando per la terza corsia autostradale tra Firenze e Pistoia. La notizia della revoca del bando pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale non è passata inosservata in Consiglio regionale. Anche qui sentiamo per primo il presidente della regione Eugenio Gianni. Ma mi chiarirò con il presidente Tommasi che nei prossimi giorni ho subito appena ho visto questa cosa chiesto di poter incontrare perché devo dire che ritengo uno dei passaggi importantissimi già ben programmato sul piano della progettazione su cui sono state operate le procedure per quello che sono gli espropri necessari a realizzare una infrastruttura che è decisiva nell'area centrale della Toscana. Devo dire che non mi sorprende perché so come finché non si chiarisce il profilo della concessione delle autostrade la società autostrade non fa investimenti. Io spero che con l'arrivo del presidente Draghi che tutti conosciamo non solo per le competenze e le capacità ma anche per il senso operativo e di concretezza finalmente si possa chiudere questa partita e si possa dar corso a quel piano di investimenti che la società autostrade aveva previsto di fare. Ormai mancano pochi giorni e questo sarà uno dei punti che io cercherò di sollevare all'attenzione del nuovo governo. Purtroppo il tempo continua a scorrere inesorabile e società autostrade ha dovuto revocare le prequalifiche della gara d'appalto perché non più rispondenti ormai ai tempi che corriamo. Pensate soltanto che gli appalti comportano ormai per la gestione di tutti gli effetti di contenimento della pandemia, cioè del Covid, un costo ulteriore fra il 5 e il 7%. Quindi Autostrade ha dovuto revocare quelle prequalifiche che ribandirà insieme ad anche altre verifiche di natura ambientale molto specifiche. Il problema politico esiste ormai da un anno e mezzo e tiene inchiodato questo progetto fondamentale per lo sviluppo dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia e in particolar modo diciamo caro ai cittadini e alle imprese. Perché? Perché da un anno e mezzo il governo Conte non è riuscito a sciogliere il nodo, revoca sì, revoca no, della concessione ad autostrade. Ma non possono rimetterci i cittadini e le imprese di questa regione in modo particolare dell'Italia rispetto a un problema che è tutto politico. Lo devono risolvere, la Toscana deve farsi sentire, l'abbiamo detto anche nell'ambito della discussione sul documento di finanza regionale perché non è vero purtroppo che il progetto esecutivo è ancora approvato, il progetto è pronto, da due anni è sulle scrivanie del Ministero dei Trasporti e deve dare il via libera affinché autostrade o chi vorrà il governo possa realizzare quest'opera fondamentale. Questa è una pessima notizia, si tratta di capire il perché della revoca di questo bando. Come lei ha detto, il procedimento autorizzatorio è iniziato da tempo, ho avuto modo di seguirlo anche personalmente nella mia precedente esperienza di assessore. Avevamo anche ottenuto importanti ricadute per quanto riguarda le opere connesse e funzionali a favore della mobilità e della infrastrutturazione dei territori dove la terza corsia verrà realizzata. Con i comuni abbiamo fatto un lavoro di concertazione, di pressing, abbiamo ottenuto importanti risultati. Penso all'asse dei vivai nel comune di Pistoia, penso al raddoppio del Ponte Lama per quanto riguarda il comune di Prato. Piste ciclabili, sottopassi, sovrappassi, risposte importanti anche come opere connesse. Ma la cosa fondamentale è che questa è un'opera assolutamente necessaria e indispensabile per la Toscana e non solo. Quindi io spero che una volta compresi quali sono le motivazioni possano essere rimosse e credo che il governo che si insederà dovrà vedere nell'amministro che sarà competente una forte azione nei confronti di società autostrade perché l'iter possa riprendere il prima possibile. E' scaduto il mandato della Commissione regionale per le pari opportunità ed il bilancio dell'attività è stato stilato in consiglio dalla Presidente uscente Rosanna Pugnalini. Purtroppo la situazione, ce lo dicono i dati, la situazione è serissima. Tre femminicidi in poco più di 24 ore sono un dato che farci dire che non possiamo abbassare la guardia. Io l'ho detto chiaramente in questi giorni, ho partecipato a trasmissioni, l'ho detto sul mio profilo che è vero che viviamo nel momento in piena pandemia e quindi abbiamo un'emergenza sanitaria, abbiamo un'emergenza economica e in questi giorni si sta formando forse un nuovo governo ma questo tema del femminicidio non può passare in secondo piano. Noi abbiamo una piaga sociale e nazionale che ha bisogno di grande, grandissima attenzione e di fronte ai dati che purtroppo abbiamo mese dopo mese dobbiamo non solo mantenere altra la guardia ma le istituzioni devono mettere in campo tutto quello che possono, soprattutto per una svolta culturale in questo Paese. Io vorrei ricordare che nel 2021 saranno 40 anni dall'abolizione del cosiddetto delitto d'onore quindi io vorrei insomma che le istituzioni celebrassero questa ricorrenza perché evidentemente nella testa di tanti, troppi uomini, ovviamente non tutti e ci mancherebbe ma in tanti, troppi uomini ancora si pensa che la donna possa essere un oggetto da possedere quindi una proprietà e dobbiamo lavorare culturalmente per far sì che questa idea venga completamente superata, donne e uomini non sono oggetti e anche nelle relazioni affettive, quindi noi dobbiamo fare anche un lavoro verso le nostre bambini, i nostri bambini, le nostre ragazze, i nostri ragazzi io come Presidente della Commissione ho provato a fare quel che potevo e così le mie colleghe in questi anni per far comprendere che l'affettività è una cosa bella, è una cosa sana ma la persona che abbiamo davanti, uomo o donna che sia, non è un oggetto e quindi c'è affetto, c'è amore ma non si può pensare di far sottostare l'altra persona alla nostra volontà io dico sempre che si possono fare le migliori leggi al mondo per le pari opportunità ma se non sono supportate da una base culturale che deve venire già da ragazzi sono destinate tutte a cadere nel vuoto le pari opportunità significa oggi, anzi significa soprattutto rimuovere tutti gli ostacoli che non permettono alle persone di esprimersi nella loro totalità all'interno della società e si parla non soltanto di donne ma si parla anche di discriminazioni che avvengono per la religione per l'orientamento sessuale, per l'età, per molte altre cose la nostra società è piena di discriminazioni e quella delle donne è quella che più emerge allora c'è soltanto un modo per riuscire ad affrancarci significa fare un lavoro culturale innanzitutto che passa anche dalle leggi ma passa soprattutto dal finanziamento delle iniziative che vanno incontro alle pari opportunità cercare di far uscire le donne dalla condizione di dover restare in famiglia quando nella famiglia hanno una persona violenta e questo accade per ragioni economiche dare il loro lavoro, dare il loro indipendenza e far sì che sfondino quel tetto di cristallo vi do un dato per tutti per farvi capire come anche in Regione Toscana di pari opportunità si parla ma siamo ancora indietro nel secondo semestre del 2020 sono state fatte 27 nomine solo 3 persone su 27 erano donne il 27,27% questo è un dato che deve far capire come in Toscana non saremo all'anno zero ma non siamo certamente ai livelli che può raggiungere una Svezia ad esempio noi dobbiamo essere vicino a tutte le fasce deboli che possono essere le donne davanti alla fisicità di un uomo che per conformazione naturale è più forte ma anche tutte quelle persone che vivono nella debolezza della loro persona questo diventa fondamentale e credo che ci sia ancora tanto tanto da costruire vediamo che purtroppo i problemi non sono ancora risolti ma è il nostro dovere provarci e cercare di entrare nel merito cercare di capire se ci sono soluzioni cercare anche di spronare le donne alla denuncia e di mettere in pratica anche proprio delle soluzioni per aiutarle in un processo che non è solo fisico ma spesso è anche psicologico è tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona serata grazie a tutti